Francesco Ritale, segretario comunale del Partito Democratico, candidato consigliere per il PD a sostegno di Massimo Cialente. Innanzitutto una domanda come segretario. Questa è una lista che sarà definita una corazzata, ma alla fine non rischia di creare qualche scontento. Alla fine i numeri sono quelli, quindi non tutti potranno entrare. Sì, abbiamo messo in campo, il Partito Democratico ha messo in campo una lista fortemente competitiva. Sono stati candidati gli assessori uscenti, i consiglieri comunali uscenti, in più ci sono nuove candidature, c'è la mia, ci sono esponenti della società civile, giornalisti, molti medici, che si sa in queste occasioni hanno sempre dei grandi risultati. Noi abbiamo ritenuto che, stante la straordinaria importanza che questo appuntamento elettorale riveste, dovevamo mettere in campo la lista più competitiva possibile. Dare la possibilità a tutte le persone più importanti, più rappresentative del Partito Democratico di misurarsi in una competizione legittima, perché è chiaro che a un certo punto scatta anche una competizione tra i candidati delle singole liste. Però non poteva essere diversamente, perché altrimenti avremmo sottovalutato l'appuntamento elettorale. È vero che, come dire, quando uno mette in campo tante forze, poi c'è il rischio che qualcuno abbia un risultato non eccellente, però è anche vero che noi puntiamo a essere la... Innanzitutto a vincere le elezioni e quindi a conquistare il premio di maggioranza, che aumenta la quantità dei consiglieri a nostra disposizione. Ma anche a essere la prima lista, a quel punto se, insomma, otto, nove consiglieri dovessero entrare e più qualcuno va a fare l'assessore, insomma, noi creiamo di poter valorizzare più di dieci persone, che insomma sono un numero abbastanza competitivo. Che campagna elettorale è stata? Ma, sinceramente, mi sarei aspettato, soprattutto dagli esponenti di centrodestra, una campagna elettorale più aggressiva. Probabilmente ha pesato il discorso che erano le prime elezioni comunali dopo il terremoto, quindi probabilmente c'è in città ancora un clima di giusta sobrietà che in qualche modo è stato anche rispettato in questa campagna elettorale. Devo dire che, tutto sommato, è stata una campagna elettorale corretta, nel senso che senza particolari scandali, senza particolari contrapposizioni. Insomma, ho un giudizio complessivamente positivo, soprattutto dal lavoro svolto dalla nostra coalizione e dal nostro sindaco. In conclusione, un appello al voto? Perché votare Francesco Ritali e perché votare il PD? Innanzitutto perché votare Massimo Cialente. Noi riteniamo che comunque Massimo sia stato un sindaco presente in città e che abbia speso tutte le energie per cercare di difendere gli interessi della città. E' tanto lavoro positivo che è stato fatto, anche se ovviamente ce n'è tantissimo da fare. Per quello che riguarda me, io dico votare il Partito Democratico, innanzitutto perché è il principale partito della coalizione, siamo di fatto la spina d'orsale della coalizione. Senza PD non esiste centrosinistra, non esisterebbe assolutamente la vittoria di Massimo Cialente. All'interno del PD probabilmente è giunto il momento di valorizzare una nuova classe dirigente. Questa città tende a riprodurre un po' sempre le stesse figure e gli stessi personaggi. C'è un po' di stanchezza e si percepisce. E dall'altra parte c'è una domanda da parte dei cittadini di novità, di mettere in campo nuove persone, nuove energie, nuove idee. Io mi candido un po' a essere una delle tante figure che stanno emergendo con un'idea forte di rinnovamento, di ringiovenimento, di portare nuove idee e stanze alla collettività e alla città. Grazie a Francesco Veritale.